Bentornati in diretta, la distorsione della nostra caviglia è uno dei traumi più comuni, insomma basta scendere un gradino in maniera sbagliata, magari incombere in una buca soprattutto romana e su via la nostra caviglia si gonfia. Niente paura, qui con noi c'è oggi il dottor Gabriele Benedetti che è tornato a trovare il nostro osteopata di fiducia. Io ringrazio anche la nostra bella Barbara Torrago, la nostra modella, perché grazie al dottor Benedetti noi possiamo guarire da questa distorsione con dei trattamenti di osteopatia. Allora subito Gabriele cerchiamo di capire che cosa succede alla nostra caviglia quando ai noi purtroppo ci becchiamo una bella distorsione. Eccolo qui il nostro Johnny poverino sempre smontato, poi rimontato, tockerà anche a Barbara quindi vedrete proprio quante cose riusciremo a fare oggi. E parliamo intanto di strutture, quindi partiamo proprio dall'osso, ovvero abbiamo la caviglia che è fatta dalle ossa della gamba e poi dal piede. Nello specifico abbiamo quindi la pinza bimagliolare, te la simulo, vedi, è proprio una pinza, che va a tenere dentro di sé la stragalo. Nome complicato, in realtà è proprio l'osso principale che vedi fa questo tipo di articolazione. Ah, movimento, certo. È indispensabile per tutto il camminare. Esatto, queste ossa, che cosa fanno? Vengono stabilizzate da tutte strutture invece muscolari e legamentose. Purtroppo quando noi abbiamo una distorsione, volgarmente detta caviglia, comunemente la chiamiamo praticamente storta, storta di caviglia, esatto. Che cosa succede? Noi abbiamo che si creano dei movimenti, perché il trauma può essere, si dice, in inversione, quindi un trauma in cui andiamo verso dentro con il piede, e quando andiamo verso dentro si vanno a tirare tutti i legamenti della parte esterna. Quando lo facciamo verso fuori, tutti i legamenti della parte interna invece si tirano, quindi c'è una lesione probabile dei legamenti. Gabriele, come avviene una visita appunto di una persona che ha appena avuto una distorsione? Allora, la prima cosa da fare è richiedere una lastra, quindi una radiografia per escludere possibilità di frattura. Perché noi potremmo avere un trauma talmente grande che porta la frattura, ad esempio della stragalo, quindi molto molto pericoloso. Anche perché la caviglia, immagino, si gonfi, no? Quando abbiamo... Si gonfia se abbiamo una frattura, ovviamente, abbiamo dolore notturno, abbiamo dolore pulsante, questo in caso di frattura. Escludendo la frattura con la radiografia, passiamo invece all'esame dei tessuti molli, quindi muscoli, legamenti tramite l'ecografia o la risonanza magnetica. E andiamo quindi ad analizzare i propri nostri legamenti. Che cosa succede quando invece io vado a fare un esame obiettivo, per cui vado a testare automaticamente, vedi in questo caso manualmente, le caviglie? La prima cosa che devo fare è controllare la posizione della stragalo, quindi l'osso che noi avevamo all'interno della pinza. Perché? Perché si può creare una lussazione, una sublussazione, ovvero esce fuori dalla tibia e dal perone, quindi dalla sua pinza. E ovviamente se noi abbiamo un osso che è fuoriuscito, l'articolazione non potrà muoversi. Quindi che cosa succede? Che si crea un blocco o addirittura c'è una lassità totale perché la caviglia non ha più la sua stabilità. Allora, in questo caso noi che cosa possiamo fare? Prima di fare qualunque genere di intervento, riposizioniamo questa stragola all'interno della pinza. Può sembrare un attimino cruento, in realtà è una tecnica molto precisa e noi quindi adesso testo in diretta a Barbara per vedere qual è la stragalo che risulta più fuori. Vedi, sto testando questi due punti che sono proprio la testa, quindi la parte più sporgente di quest'osso. E questo va fatto prima di ogni trattamento? Prima di ogni trattamento perché prima di fare qualunque altra cosa dobbiamo riposizionare la normale morfologia della caviglia. I rapporti esatto biomeccanici che devono essere congrui. In questo caso mi risulta più fuori la stragalo da questa parte, quindi più anteriore, e invece più incastrato da questa. Quindi in questo caso avremo, vedi, una caviglia molto più lastra in questo senso e in quest'altra incastrata. Rigida. Dobbiamo farlo, esatto, fuori uscire. Partiamo con le due tecniche. Allora, in questo caso... Questi adesso sono i trattamenti che noi faremo, insomma, per un'eventuale distorsione. Già i trattamenti perché, vedi, spesso poi il trattamento parte proprio da un test. Quindi io vedo che in questo caso questo è più sporgente. Lo vado a, vedi, riposizionare internamente. Allora, partiamo quindi dalla posizione... Quanti trattamenti ci farei vedere, Gabriele? Ne facciamo due. Uno per riportare internamente la stragalo, uno invece per portarlo fuori. Fuori. Quindi per ridurre queste eventuali sublossazioni. Ok. Va bene. Questo è un thrust, quindi una tecnica manipolativa che riporta internamente la stragalo. Si sente il piccolo rumorino. Il piccolo? No. Va bene. No. Era per dire. Piccolino, però viene riposizionato. Quindi in questo caso... Barbara è tranquilla, nessun dolore, anzi forse... Avremo qualcosina più dolorosa dopo, però lo spieghiamo più tardi. Adesso invece queste sono tutte tecniche senza dolore perché sono sull'articolazione, quindi sull'osso. In questo caso invece molto interno lo voglio far fuoriuscire. Si. Quindi sarà una tecnica simile, ma cambia che cosa? Tutto il posizionamento, vedi, in flessione, lantare. Quindi faccio questo. Rilassati. Brava. E porto fuori. Sì. È una tecnica molto simile. Cosa cambia? La posizione del piede. Perché da una parte lo porto dentro, da una parte lo porto fuori. Fondamentale perché in questo caso abbiamo di nuovo le caviglie che sono apposte dal punto di vista articolare. Adesso insomma non è il caso della nostra Barbara, no? Sì. E quando vengono nel tuo studio, immagino che la caviglia sia un po' gonfia, ingrossata, dolorante. In questo caso si possono fare subito e immediatamente i trattamenti oppure bisogna aspettare che comunque il gonfiore passi? Allora, brevissima, è una domanda secondo me fondamentale perché di solito si aspetta. Eh sì. Quindi mettiamo il ghiaccio, cosa fondamentale, però poi noi aspettiamo. Che cosa succede? Se noi iniziamo ad aspettare, purtroppo i legamenti che hanno avuto il loro stiramento, la loro lesione, cominciano a cicatrizzarsi nella posizione purtroppo di lassità. Quindi compiono una cicatrice. Non bisogna aspettare. Quindi bisogna intervenire il prima possibile. Io all'epoca quando iniziai a lavorare addirittura lavoravo con dei calciatori sul campo, perché addirittura partiva il trauma e cercavamo di ridurla subito. Senza aspettare, senza mettere il ghiaccio? Senza aspettare. E tanto si gonfia, quindi noi intanto la trattiamo e poi applichiamo il ghiaccio. In questo caso che succede? Ipotizziamo che arriva purtroppo un paziente che ha aspettato un mese. E che cosa succede? E che è ancora dolorante? È ancora dolorante, probabilmente ha un'ecchimosi, ha un'edema, quindi una raccolta di sangue, perché quando si lesiona il legamento comincia a far uscire molto sangue. Quindi spesso abbiamo un colore molto violaceo, lungo tutta la parte bassa perché il sangue poi scende a livello venoso. E noi che cosa facciamo? Dobbiamo quindi riaprire questa ferita. Quindi è più complicato farlo dopo, perché devo riaprire un legamento che ormai è cicatrizzato. Lo faccio vedere qui. Allora che cosa succede? Ipotizziamo una lesione dei legamenti, quindi della componente esterna della caviglia, perché c'è stata un trauma in inversione. Siamo scesi da una scala, abbiamo sceso il gradino e purtroppo siamo caduti sul piede in questa posizione. Si vanno a lesionare tutti i legamenti della parte esterna. E poi troveremo nelle risonanze come peroneo stragalico anteriore, posteriore e così via. Che cosa facciamo? Noi partiamo quindi dalla posizione del legamento che si è spostato, perché il legamento, vedi, da questa posizione qui, io lo provo a disegnare, da questa posizione scende qui. Quindi che cosa facciamo? Parto dal trauma e lo vado a riposizionare manualmente, riportandolo su. Questa è un'operazione molto dolorosa, sia con un legamento sano, sia con un legamento invece lesionato. Vabbè, insomma, ha la soglia del dolore molto alta. Per quale motivo? No, vorrevo capire adesso, perché sta finendo il tempo, è importante far vedere anche gli esercizi, Gabriele. Esatto. Gli esercizi molto velocemente, perché insomma, gli esercizi post trattamento. Vediamo questi esercizi, chiudo soltanto dicendo che una volta riposizionato il legamento, poi va fasciato, immobilizzandolo, si dice, in flessione dorsale, in modo tale che poi il legamento abbia il tempo di saldarsi. Gli unici due esercizi che vediamo sono uno di allungamento, che possono aiutare la nostra caviglia. Possono aiutare perché una volta che noi abbiamo riposizionato l'osso, riposizionato il legamento, è fondamentale fare uno stretching per il tricipite surale, ovvero per il polpaccio. Quindi scendiamo giù piano piano, quindi da una posizione di step, noi scendiamo giù e andiamo a tirarlo. Lo facciamo sempre con la gamba dritta, esatto, perché è un muscolo biarticolare. Scendiamo e andiamo, vedi, ad allungare tutta la componente del polpaccio e del tendine d'Achille. Questo è fondamentale perché ci aiuta ad allungare un muscolo che normalmente va a ritrazione in caso di trauma. Ovviamente questo migliora anche l'ampiezza articolare della caviglia. Poi che cosa succede? Una volta che noi riusciamo a recuperare l'ampiezza articolare, dobbiamo rafforzare invece la struttura. La cosa migliore è rafforzare i propri muscoli del polpaccio, ovvero da questa posizione saliamo e poi spingiamo verso l'alto. Riscendiamo un pochino, risaliamo di nuovo sullo step e poi spingiamo verso l'alto. Lo possiamo fare, vedi, in appoggio così siamo più sostenuti, lo possiamo fare gradatamente. E questo che cosa fa? Crea sia l'ampiezza articolare sia il rafforzamento. E questo è importante. Grazie, grazie al dottor Gabriele Benedetti, grazie alla nostra bellissima Barbara.